salve il mio nome è giulia boschi il mio curriculum è piuttosto atipico e complesso dunque non vi tedio ma fra le varie cose negli ultimi dieci anni ho tenuto un corso di terminologia della medicina cinese a livello universitario e ora ho pensato di fare qualche cosa di più divulgativo soprattutto per i colleghi che come me applicano la medicina cinese anche in ambito terapeutico dunque vorrei intanto invitarvi ad un webinar gratuito il 4 maggio o in alternativa stesso webinar il 6 maggio dove vi racconterò che cos'è che rende così speciale la lingua cinese e vi parlerò degli ideogrammi o meglio caratteri cinesi detti anche sinogrammi o logogrammi pensavate che tutti i segni della scrittura cinese fossero ideogrammi non è proprio così e ve ne parlerò vi racconterò anche gli essenziali diciamo così della pronuncia della trascrizione sarà per me veramente un piacere aiutarvi ad avere una pronuncia più corretta dei termini cinesi che sempre più spesso entrano nel nostro lessico quotidiano e dunque ci vediamo per questo webinar gratuito e poi chi lo vorrà potrà proseguire con un corso intensivo di terminologia base della medicina cinese in quattro settimane il link per iscrivervi lo trovate qui sotto e la mia piattaforma zoom ha un capienza limitata ma immagino sia più che sufficiente per accoglierci tutti nel caso verrà l'ordine di prenotazione e se non sarà per la prossima volta ciao 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 ciao